Durante le riprese di questo film il corvo doveva scendere in un certo punto, fermarsi a terra e riprendere il volo, cosa che logicamente un corvo vero non potrà mai fare. Un po' difficile almeno. Adesso le pile durano un massimo di due minuti. Bene, grazie Rambaldi. Allora, ora vedremo un brano filmato, molto breve ancora una volta, di un genere cinematografico che ha sempre largamente attinto al trucco, all'effetto speciale, a quello storico-mitologico, un genere che anche Bava ha fatto, perché c'è un film di Bava del 61, Ercole al centro della terra, che fu un film piuttosto bello. E' stato l'inizio del filone dei film storici. Ecco, ma questi crolli, queste rovine, come si ottengono? Ci sono due sistemi. Questo che abbiamo visto adesso non è quasi un trucco. Cioè, è un trucco nel senso che altri tecnici, che non siamo noi, che sono quelli dei teatri di posa, i costruttori, hanno costruito questo tempio veramente in materiale leggerissimo, legno di balza, cartone, le pietre enormi, vuote, eccetera, tutti messi uno sull'altro appena appena così, con borotalco, polvere di cemento, eccetera, che tirando una cosa, questa roba cadeva addosso. Quindi le dimensioni di questo tempio? Questo era vero, questo era un tempio vero, costruito lì. Poi ci sono altri sistemi, quelli dei modellini, che si fanno dei piccoli modellini, si girano a rallentatore, cioè andando invece che a 24 fotogrammi al secondo, le saghe di cinema va a 24 ogni secondo, passano a 24 fotogrammi. Se noi giriamo a 120 fotogrammi, a 240 fotogrammi al secondo, abbiamo il movimento, che oggi, anzi c'è la mania dei film, nei finali di tutti i film, oggi vediamo l'attore che va a rallentino, e girando così, allora si ha la proporzione, un modellino piccolo diventa una cosa normale, il fumo, le polvere diventano... Si può fare con dei modellini piccoli che crollano, naturalmente al momento che si stacca, e qui esiste il montaggio, che è la più grande cosa del film, dove uno tagliando i pezzetti... Cioè il lavoro sulla pellicola dopo il film è stato realizzato, Quando il modellino cade giù, il montaggio si va in dettaglio su un signore che passa, gli cade in testa una pietra grossa così, che è di cartone leggerissima, il signore accusa il colpo, casca per terra, anche lui è uno specialista del... Sono gli stand, sono gli specialisti dell'accuso del colpo, perché una persona normale prende una cosa in testa e rimane lì, no, quello fa finta di prendere la colpa, rotola per terra, ed è un suo seguirsi di montaggio. E altri trucchi in fondo, perché in fondo il cinema è tutto un trucco, parliamoci chiaro, Certo, il primarialista, come diceva lei prima. Certo, certo. Ma di questo parleremo con Angelucci. Allora, la nostra è una trasmissione di lusso oggi, perché per le nostre esemplificazioni possiamo chiedere la collaborazione della signora Monelli. Se avete piaciuto di me. Signora, vuol fare una passeggiata in un tempio, perché abbiamo lì, vede, in fondo allo studio, abbiamo organizzato anche... È uno studio immenso. È uno studio enorme, gigante. Sì, è il più bel tempio che esista, quindi devo dire che vado con molte gioie. Signora, si accomori un momento. Scusate. Oh, ecco qui. Beh, certo, Bava aveva ragione, è uno studio enorme, quello in cui stiamo lavorando in questo momento. Queste sono costruzioni proprio tipiche, all'immuniano, qui sono spesi miliardi, no, Bava? C'è delle cose così. Guarda come piccola la signora Monelli. Guardi, guardi, guardi la proporzione, guardi, guardi che tempo, guardi. Cos'è questa? Guarda sarà il tempio di festa, cos'era? Non lo so. A me dovrebbe essere una via di Pompei Scadi. Cosa è il problema? Ecco qui, e qui abbiamo svelato il trucco, in realtà non abbiamo fatto una costruzione hollywoodiana. Si tratta di un modellino, un modellino di Rambaldi, e come si è ottenuto questo risultato, Bava? Mettendo il modellino messo lì, la signora era dietro le colonne. A pochi metri dal modellino? Era pochi metri. In questo caso c'era una lente negativa tra le due colonne, di modo che impicciolisse la signora e portasse il fuoco esattamente sul piano del modellino. E con questo sistema, ed altri sistemi, si possono mettere migliaia di persone, centinaia di persone, in mezzo a modellini, fare panoramiche. Naturalmente quando si fanno i film storici non si può costruire una città, Roma, Atene, completamente, secondo me il film costruisce talmente tanto, quindi si deve fare, per lo più, anzi si fa ad altezza d'uomo, vero, e dove l'uomo non arriva, sopra si fa sempre il modellino, che si può fare, o così con questo dal vero, un piccolo modellino in gesso, con plastico, oppure con fotografie, oppure dipinto sul vetro, insomma ci sono vari sistemi. Vari sistemi. In televisione si usa un sistema che, se non sbaglio, mi scusino i colleghi tecnici che mi stanno ascoltando in questo momento, se non sbaglio si chiama Chroma Key, che è un'utilizzazione del blu. Il blu becche del cinema. Nel cinema si chiama blu, sì, sì. E queste tecniche moderne non hanno soppiantato l'uso dei modellini? No, perché è sempre un modellino che bisogna fare per metterlo sopra lì. Cioè, sul Chroma Key ci può mettere un modellino, una fotografia di un modellino, una cosa, che lo proietta e viene dietro l'attore. Ecco, non si può ottenere lo stesso risultato con fotografie o con disegni? Anche si può ottenere, come dicevo prima, si può fare con il modellino, anzi, oggi quasi il modellino vero di questo è quasi abolito, perché è troppo complicato metterlo a posto. Cioè, con fotografie su un cristallo, oppure messe in blu bec, oppure col chroma key. Cos'è il blu bec? L'abbiamo citato. È il chroma key della televisione. Ecco, forse non è ancora nel tutto chiaro. È molto lungo a spiegare anche quello, perché si gira l'attore su un fondo blu. Sì. Poi, su un paesaggio girato dal vero, in stampa, questo dopo, c'è una macchina chiamata Truca, ci sono degli specialisti bravissimi, perché si tratta di milionesimi di millimetro che le due immagini devono collimare, si fanno mascherini e contromascherini, di modo che, poi l'attore viene fuori su questo paesaggio come se fosse vero. Ho capito. Ma se l'attore fosse vestito di blu? Diventerebbe trasparente. Diventerebbe trasparente. Quindi quando sono queste cose, l'attore non deve... Infatti in un film che ho fatto, il ladro di Bagdad, tanti anni fa, avevano fatto lo sbaglio di fare la cintura di Steve Reeves e blu. E si è dovuto rifare tutto, perché... Perché l'attore appariva tagliato a metà. Sembrava tagliato e bucato. C'era Angelucci che voleva dire qualcosa. L'uomo invisibile. Beh, l'uomo invisibile è talmente complicato a parlarne che è meglio non parlare. Lì si tratta veramente... Va bene, allora parliamo di ore a spiegare un trucco di... Poi per il tempo il Blu Beck non c'era? Non c'era, ma lì era casce contro casce, dipinti su fondi neri, le fasce che si davano. È una cosa veramente da far drizzare i capelli. Ecco, allora parliamo di un'altra cosa, di un altro effetto speciale che si vede molto di frequente nei film e soprattutto nei film che sono in programmazione, come si diceva prima, in questo periodo in Italia. Le esplosioni, le grandi esplosioni, come avvengono queste esplosioni? Come le fate? È semplicissimo, sono veramente delle piccole esplosioni fatti su modellini in scala, dipende dalla grandezza che si vuole fare, più grande si fa e meglio è, più è vero l'effetto. Naturalmente per economia si possono fare grandi 3 metri, 4 metri, 10 metri. E poi c'è altri signori degli effetti speciali che sono quelli che portano i botti, gli spari, i cosi che per lo più poi fanno saltare un po' tutto per aria perché loro sempre per la paura di mettere poca carica alla fine una volta in un film, ricordate un teatro della De Laurenti si è alzato il tetto e per poco cascava in questo film. Che avevano esagerato. Che avevano esagerato, la carica non c'è pericolo, non c'è pericolo e poi alla fine, ecco, in questi casi qua, quei casi, là sono getti di gas, non è niente di pericoloso, sono tutti i getti, gas, cose, gas, fumoni. Questi sono alcuni momenti. Ecco, ci sono razzi, sono cose che sparano, ecco qui, in queste cose, alle volte il pericolo, infatti in alcuni film c'è scappato il morto, purtroppo, e si mettono delle bombe sottoterra, ti segna il posto, ma nella fuga, nella cosa, qualche comparsa, poveretta, non si rende conto, ci va a cascare il suo, però in quel mente esplode la cosa, se anche non è bomba, un petardo preso in faccia, è pericoloso. Ah, ci sono stati anche dei morti? Sì, c'è stato un film, che adesso non ricordo, c'è stato un film morto, poveretto, che proprio, perché è andato a finire per un petardo che scoppiava. O queste immagini si riferiscono a un film intitolato Il nostro agente Flint, eh, questi non sono trucchi che, non sono trucchi di bava, o trucchi di rambaldi, però sono abbastanza... Sono tutti uguali, sono tutti fatti bene, fatti molto meglio, fatti con più soldi degli americani, ma alla fine siamo sempre, i principi sono sempre quei, le miniature, cose, un po' di qua, un po' di là. Sono bravi gli italiani, sappiamo che Bava è molto bravo, e anche rambaldi, ma siete apprezzati nel mondo per questo genere di attività, o vi sono altri operatori di altri paesi? Ci sono, vale, i maestri di tutti sono stati francesi, da Méliès per primo, e poi abbiamo una scuola francese la quale ha insegnato a tutti, con vari sistemi, il sistema Donin, che è il sistema di pittografie, sono stati centinaia di sistemi, poi a un certo punto è passato al cinema americano, dove loro scientificamente, all'americana, fanno le cose con 200 persone, non so, per il trucco di Sildemille, lì per il traversare il Mar Rosso, hanno fatto una strada fra serbatoi di acqua che teneva 180 mila ettolitri, roba insomma che a farla oggi costerebbe un miliardo solo quella costruzione lì per fare quest'acqua che scendeva giù, c'è una specializzazione di centinaia di persone, di miliardi, è giusto domandarsi se è giusto, sono miliardi di spesi, preventivati prima, in Italia si spende anche, perché il trucco non è che si faccia con pochi soli, alcune idee possono, mi sa, Cristoforo Colombo, buon italiano, insegna, mi ha smise l'uovo, ciacchia, e dopo a tutti, sembrava facile, alle volte c'è un uovo, una trovatina, può venire un'idea, ecco, e dopo che la ne ha è tutto lì, però arrivare a far stare l'uovo dritto, questa è l'esplosione finale, questo è un modellino, il tutto sempre girato col famoso rallentatore, perché, a me c'è un modellino messo veramente nel mare? No, questa è piscina sicuramente, sono piscine enormi, come anche qui l'abbiamo a Cinecittà, dove Fellini ha fatto quelle scene di Amarcord con il Rex, è una piscina enorme, che sarà un modellone, un modellino di, perlomeno sarà, naturalmente sarà già al 200 potremmo al secondo, che le esplosioni vengono lente, altrimenti girando al normale farebbero così, ecco, abbiamo anche visto un corvo che non era quello di Grambaldi, ma che probabilmente sembrava finto, sembrava finto, sembrava finto, e questo è un grave errore, è un'imputazione che si può fare a questo film, perché i vostri trucchi non debbono mai essere... No, anzi, bisogna sforzarsi di trovare la realtà più assoluta. I trucchi nostri sono, più che altro, l'Italia è la genialità italiana che deve supplire al dollaro, capito? Scusate signori, se l'interroppo, ma noi non abbiamo iniziato questa nostra conversazione avendo qui in studio con noi Silvia Monelli, perché ho l'impressione che non ci sia più Silvia Monelli, ma Paola Pitagora, o sbaglio? Abbiamo cambiato cambiato attrice strada facendo? Buonasera signora. Ecco, ebbè insomma, certo. È un altro dei preziosissimi trucchi dei nostri maestri qui, è una cosa eccezionale questa maschera di Paola, è veramente, niente, è Paola, mi fa intenzione. Riusciamo a farla vedere meglio signora Monelli, ecco, forse è così, effettivamente, questa è una maschera di ramballi, no? un po' di profilo anche. E' stato fatto un canco e riprodotta, cercando di riprodurla perfettamente. Eccezionale, gli occhi sono una cosa impressionante, la visita. E a cosa servono ramballi le... A fare un film con la Pitagora senza pagarla. A fare un film con la Pitagora senza pagarla. Lei nel suo laboratorio ne ha tante di queste maschera. Sì, a volte succede quando l'attore deve sottoporsi a una tale pericolosità dove si deve ricorrere un manichino, un supermanichino anche elettrico. Altre volte è successo che un attore si avvicini alla prorata, non fanno più in tempo, prevedono di non far più in tempo di girare determinate scene, si preleva un calco dell'attore, nei pochi giorni che restano gli girano moltissimi primi piani e poi il calco viene utilizzato messo sopra a una controfigura fisicamente perfetta e con questo sistema risolvono tutti i campi lunghi, le figure intere, eccetera. Ed ecco un altro trucco di Rambaldi, un serpente, eh? Questo come è fatto Rambaldi? Di che sostanza è questo serpente? Tanto per strammatizzare subito? Sì, è sempre un tipo di gomma, questa è speciale rispetto alle altre che usiamo, è una gomma che non fa grinze e che permette al serpente di snodarsi senza svelare il trucco, lo stiamo svelando adesso, e c'è una guida che va interrata, tirando questa guida il serpente avanza e compie un certo tragitto che può essere, adesso abbiamo fatto un percorso di un metro e mezzo ma può essere anche 10-20 metri. C'è il suo collaboratore che aziona questo meccanismo per cui il serpente viene portato in avanti. Ma ne avete fatti tanti di animali di questo tipo, sì, è una delle vostre attività più importanti. Beh, gli animali sono molto richiesti, non perché l'animale non faccia certe scene, cioè non possa far l'attore, ma perché l'animale per il suo carattere, a volte il domatore lo predispone per fare certe azioni, però una volta portato nel teatro di posa si vede in mezzo riflettore e molto altro personale, l'animale si blocca, non fa più niente. Questo costringerebbe una produzione a star ferma ad aspettare che l'animale faccia per caso quella determinata azione. In questi giorni ha fatto un gatto se non sbaglio, si, e quindi è orgoglioso. meccanico è riuscito abbastanza bene ed è anche questo fare un'azione che il gatto vero non potrebbe mai realizzare. Eh, bello, eh? Bello. Un coccodrillo di rambaldi. Impressionante. è fra le cose più belle del suo laboratorio, credo, questa, no? Beh, è una di quelle che ci ha fatto anche sudare, fra l'altro. Cos'ha? Un motore elettrico, le? Sì, sono due motori elettrici. Uno per la deambulazione, la camminata che può andare in terra e in acqua. In modo che quando la deambulazione finisce il punto di sostegno interviene un'elica per farlo scorrere anche nell'acqua. Diventa una specie di motoscarlo. Esatto, perché poi affiora tutta la linea dorsale. E poi c'è il colpo di coda che è subito in certi momenti. Forse non è il caso di dire in quali film è stato utilizzato anche recentemente questo coccodrillo perché forse non farebbe un piacere ai realizzatori di questi film, vi sa. Film che abbiamo girato in Africa in aprile in un fiume africano dove c'erano fra l'altro altri coccodrilli veri e questo ho dovuto fare tutta un'azione di discesa nell'acqua con altri altri movimenti nell'acqua affiorava si tornava sulla terra una cosa molto complessa che logicamente è tutto vero. Senta Rambani, questi mostri cosa fa? Prima li disegna? Noi abbiamo anche la possibilità di vedere qualcuno rispondere. Nel caso di un coccodrillo come di un altro mostro cerchiamo di documentarci il più possibile per esempio lei vede che la squamatura varia secondo le zone eccetera c'è un disegno ben preciso e ben definito perciò la documentazione iniziale è importante. Ecco, in questo momento stiamo vedendo il disegno di... Sì, questo però è un mostro fantastico è un grande mostro che probabilmente non è mai esistito comunque imita un po' una formica gigante questo è il progetto iniziale al momento della discussione prima dell'inizio del film e questa è la realizzazione che è abbastanza fedele al preventivato Ah, questa è la realizzazione di quei disegni che abbiamo visto un istante assai Sempre in gomma anche questo? Beh, gomme, plastiche, metallo che dimensioni aveva questo animale? 12 metri questo invece è il progetto del mostro del drago del Sigfrido che era interamente elettrico doveva combattere poi col cavaliere eccetera ha un motore aveva un motore elettrico simile a quello che... Sì, otto motori molto più potenti perché qua siamo in dimensioni molto maggiori ma comunque quando un cocodrillo o un animale non richiede di dover andare non so tipo in Africa dove c'è difficoltà di reperire la corrente elettrica cerchiamo di non fare motori a batteria ma ci attacchiamo direttamente al gruppo elettrogeno ecco questo è il terrore nello spazio un film di fantascienza uno dei più famosi 13 anni fa 63 12 anni fa 12 anni fa ecco questa l'astronave che sta vicino al pianeta sconosciuto e cosa era fatta questa astronave? era un piccolo modellino però era molto complesso perché dentro c'erano luci che oscillavano ecco l'aria compressa che seguiva a fare nuvole di polvere zampe che venivano fuori questo era un modellino questo era un modellino piccolissimo questo era Barry Sullivan questo era il segnale d'allarme rosso che non si vede ecco il pianeta strano il pianeta ha conosciuto l'astronave che a terra ha un gran rumore la ritorna di polvere questo come questo come l'ha ottenuto per esempio questo otterraneo e beh facendo non si dovrebbe dire ma qui lo posso dire in una vaschetta perché non si dovrebbe dire Bava perché non bisogna sminuire i trucchi non bisogna sminuire i trucchi ma è importante i suoi risultati è importante i risultati questa era una vaschetta d'acqua dove lì dentro avveniva tutto in modo che nell'acqua i polveri di biacca facevano piccole nuvole eccetera eccetera l'importante era non far venire le bollicine sull'astronave però si scopriva tutto ma quant'era grande questa? beh è stata 50 centimetri non di più pensi che delusione che sta dando in questo momento a chi ha visto questo film? ma era talmente complicata talmente fatta bene che poteva poteva se è peccato che non si anzi la volevo portare ma non si è più trovata è sparita qualcuno l'avrà presa per farci regalare e giocare il proprio bambino lei mi raccontava che questa astronave ad un certo punto si è rotta no? si è stato un giorno che è venuto dei tecnici proslovacchi a trovarci lì per vedere i trucchi d'Italia ci hanno trovato tutti serissimi tutti che masticavano e pensavano chissà cosa fanno questi italiani mangialo sempre stavamo tutti masticando gomma americana perché si era rotta una zampetta dell'astronave l'unico sistema per attaccarla lì per lì l'abbiamo attaccata con la gomma americana con i potenti mezzi con gli potenti mezzi italiani d'altra parte è stato un sistema più pratico questo è il pianeta sconosciuto la rampa dell'astronave vabbè allora lasciamo questi eroi alla conclusione della loro avventura io direi che a questo punto si conclude anche la nostra conversazione una conversazione che forse alla fine avrà ottenuto il risultato di sdrammatizzare un po' rivelando qualcuno di questi trucchi certe situazioni violente che qualche volta atturbano i bambini i giovani forse no ma i bambini ma sono affascinanti lo stesso mi piace credere per finire dire che il trucco cinematografico non è una stregoneria un illusionismo una cosa anzi è sempre fatto da tecniche raffinatissime complicatissime elettroniche così ci vuole poi l'amico Rambaldi me lo può dire un certo buzzo un certo geniaccio poi una grande pazienza grandissima pazienza per avere una pazienza tremenda certosina e più di tutto una grande esperienza perché conoscere tutto la tecnica le ottiche e allora con questo si può arrivare a fare dei trucchi anche con pochi con pochi mesi molto bene allora grazie a Silvia Monelli a Gianfranco Angelucci a Mario Bava a Carlo Rambaldi e a tutti appuntamento alla prossima settimana a Gianfranco Angelucci a Gianfranco Armstrong Grazie a tutti.